Un saluto a tutti, la buona giornata a tutti e siamo già, la tappa è implacabile, la quinta domenica dopo Pentecoste e stiamo ascoltando le pagine originarie dove ha preso l'avvio la storia della salvezza. Abbiamo il momento dell'Eden, del peccato originale, il momento di Caino e di Abele, il momento adesso appunto dove entra nello scenario la figura di Abramo e sembrerebbe che dominante in queste tre letture bibliche sia il problema dei numeri, ma credo davvero che è la consegna di qualcosa, di una promessa e di un compimento che è davvero questo sì è dono straordinario. Anzitutto quella pagina splendida di Abramo dove appunto oramai Dio ha visto la corruzione totale di Sodoma e allora adesso non può che eliminarla come città corrotta e irrecuperabile. E a questo punto però lui, Dio, si fa il problema di dire ma faccio un intervento così grande senza dire niente ad Abramo che è mio amico. Notate questo è l'apparire della relazione straordinaria di intensità e di profondità tra Dio e Abramo. Sente il dovere di dirglielo e qui si sprigiona tutta la passione profonda di Abramo. Incomincia con la preghiera di intercessione dove scandisce a partire da 50, 40, 30, 20, 10 e incomincia a dire ma se trovassi anche solo 50 o 40 o 30 o 10 che sono giusti tu distruggeresti ugualmente Sodoma? E la risposta è allora no, allora se fosse per questo la risparmio. E l'osare di Abramo è l'amico di Dio. Ma perché è l'amico di Dio? Perché lui è la figura della promessa, è l'uomo della promessa, è colui che si è messo in cammino lasciando la propria terra, lasciando tutto quello che aveva, nomade e con un clan davvero numeroso e ricco, lasciata perdere tutto perché c'è questa promessa di Dio. Tra l'altro una promessa che uno non avrebbe potuto credere, la promessa di una discendenza sterminata e loro, Sara e Abramo, sono oramai molto avanti negli anni e senza figli, sterile è Sara. E allora come si fa a credere ad una promessa così? E poi dire ad uno che conosce bene la terra, io ti darò una terra in dono, ma non dice dove, non dice quale, non dice quando. Eppure quest'uomo sulla parola di Dio investe la sua totale disponibilità. Eccolo. E Paolo nella seconda lettura, commentandolo, dice questo, in virtù della fede di Abramo, è diventato padre della fede, è diventato il riferimento che poi tiene viva la chiamata vera e autentica che il Signore affida a ciascuno di noi. E' per fede che Abramo credette e accettò. E' per fede che lui divenne padre nella fede di tutti. E' per la sua fede che anche noi troviamo accesso nella promessa e nella familiarità con Dio. Ma anche qui appunto è davvero l'ingresso di questa stagione nuova e diversa dalla storia della salvezza, dice un momento indimenticabile, quando Abramo si mette in cammino e si consegna con una lealtà totale a Dio che lo chiama. Certo, non avremmo potuto prevedere il Vangelo anche quando preparo la liturgia, non riesco a immaginare quale Vangelo il lezionario ci farà poi ascoltare la domenica successiva. E tra l'altro è la parabola di cui abbiamo fatto un sabato, l'altra settimana. E' una parabola anche qui con i numeri che sembrano la questione dominante. Ma quanti sono quelli che si salvano? Ma Gesù non raccoglie questa domanda. A lui non interessa la curiosità dei numeri. Interessa dire a chi pone la domanda, a quel popolo in cammino, a chi lo sta ascoltando, interessa dire guarda è per una porta stretta che tu puoi accedere alla salvezza, non una porta larga. E' una porta stretta. Che cos'è? E' lui, è la sua parola, è il suo Vangelo. Questa è la porta stretta. E allora togliele tutte le illusioni che hai di essere già familiare perché l'hai sentito annunciare la parola, perché eri anche tu nelle piazze quando lui parlava alla gente, oppure perché dici noi siamo discendenti di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e quindi quasi rivendichi il diritto della salvezza perché appartieni a questo popolo, al suo cammino. E il Signore davvero smentisce clamorosamente questo, ma dentro la smentita dice verranno da oriente ad occidente, da ogni dove verranno ed entreranno davvero nel regno dei cieli e saranno loro uomini e donne del popolo della salvezza. Quindi non è la smentita di una promessa e di un progetto e di dire non la devi rivendicare per una questione di appartenenza o di eredità. La devi guadagnare nella vita perché scegli di credere. E allora ecco la grande consegna che domenica prossima celebreremo, quello di essere davvero popolo che si mette in cammino e nell'obbedienza profonda alla parola del Signore dice il suo desiderio di poter accedere a questo dono, ma perché accedono a lui, accedono al Signore. Una tappa importantissima della storia della salvezza e una tappa indimenticabile. Quindi domenica è un passaggio prezioso del nostro cammino di discepolato, diventare popolo dei credenti, popolo che riconoscono in Abramo il loro padre che ha generato il popolo della fede. A tutti la buona domenica. Grazie.